Armando Diaz, il generale che salvò l'Italia dalla sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Armando Diaz Napoli, 5 dicembre 1861 Roma, 29 febbraio 1928 è stato un generale italiano, capo di Stato Maggiore del Reggio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale. È considerato uno dei più grandi generali italiani di tutti i tempi, grazie al suo ruolo fondamentale nella vittoria italiana nella Battaglia del Piave, che segnò la svolta della guerra sul fronte italiano. Diaz nacque a Napoli da una famiglia di modesta condizione. Si arruolò nell'esercito italiano nel 1880 e iniziò la sua carriera militare come ufficiale, di artiglieria. Nel corso della sua carriera, Diaz ricoprì diversi incarichi di comando, tra cui quello di capo di Stato Maggiore della Seconda Armata nel 1916. Nel novembre del 1917, dopo la disfatta di Caporetto, Diaz fu nominato capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano. Diaz si trovò a dover affrontare una situazione molto difficile. L'esercito italiano era demoralizzato e disorganizzato, e le forze austro-tedesche erano in avanzata verso Venezia. Diaz si dedicò immediatamente alla riorganizzazione dell'esercito italiano. Riunificò le unità disperse, rafforzò la linea del Piave e mobilitò la popolazione civile per la difesa del paese. Il 24 ottobre 1918, le forze austro-tedesche lanciarono un attacco a sorpresa contro le linee italiane sul Piave. L'attacco fu respinto, e le forze italiane passarono all'offensiva. La battaglia del Piave si concluse il 3 novembre 1918 con la vittoria italiana. L'esercito italiano aveva respinto l'invasione austro-tedesca e aveva salvato l'Italia dalla sconfitta nella prima, guerra mondiale. Per il suo ruolo nella vittoria della battaglia del Piave, Diaz fu nominato maresciallo d'Italia e ricevette il titolo di duca della vittoria. Diaz si ritirò dall'esercito nel 1920. Morì a Roma nel 1928. La figura di Armando Diaz è ancora oggi molto popolare in Italia. È considerato un simbolo dell'orgoglio nazionale e della vittoria nella prima guerra mondiale. Le sue qualità. Diaz era un generale di grande intelligenza e capacità organizzative. Era anche un uomo di grande carisma e determinazione. Queste qualità gli permisero di riorganizzare l'esercito italiano e di guidarlo alla vittoria nella battaglia del Piave. Diaz era anche un uomo di grande umanità. Si preoccupava del benessere dei suoi soldati e si adoperò per migliorare le condizioni di vita dell'esercito italiano e le suo contributo alla storia italiana. La vittoria italiana nella battaglia del Piave fu un evento di grande importanza storica. Essa salvò l'Italia dalla sconfitta nella prima guerra mondiale e contribuì alla nascita del Regno d'Italia. Diaz ebbe un ruolo fondamentale in questa vittoria. La sua riorganizzazione dell'esercito italiano e la sua guida durante la battaglia del Piave furono decisive per la sconfitta degli austro-tedeschi. Per questo motivo, Armando Diaz è considerato uno dei più grandi generali italiani di tutti i tempi. Il suo contributo alla storia italiana è stato fondamentale.